Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Game Play Ita. Oggi siamo su Paleon, un gioco uscito già da diversi mesi, io lo proseguo già da appunto tanto tempo, ma non l'ho mai portato perché vabbè è un'alpha, aspettavo un attimino di capirci qualcosa in più. In pratica se voi andate nella pagina Steam del gioco vedrete una intro, un video introduttivo dove vi mostro una macchina del tempo, cosa che iniziando la partita qui non si vede ma vi spiego in sintesi che è successo. La nostra macchina del tempo si è guastata e siamo tornati nel Paleon, quindi Paleolitico Immagino e pensate ci troveremo a gestire una serie di coloni con i vari nomi nelle varie priorità. Fin qui nulla di nuovo perché dovremmo gestire l'abbattimento degli alberi, la costruzione, il crafting, il trasporto di oggetti, il rifornimento, la raccolta, la pesca, il minaggio, il mining, la caccia, la coltivazione, l'allevamento, la cucina e l'apicoltura. Abbiamo questa grafica pixel grafica insomma e vediamo che i nostri sono già all'opera. Questo è rimasto ferito 57 su 100 perché l'ho mandato a cacciare un cinghiale ma la caccia al cinghiale non la potete fare subito perché? Perché ho dovuto costruire con production il crafter. Il crafter mi consente di creare lance o arpioni. Ho creato la lancia, l'ho mandato ad abbattere il cinghiale, ora vi faccio vedere in sintesi che cosa potete craftare. I classici muri, in questo caso una staccionata e un cancello, i pavimenti, un percorso oppure un pavimento di pietra, una piccola capanna e per il cibo invece il butcher's table che piazziamo immediatamente in modo da poterci mettere a cucinare la carne del cinghiale che ho raccolto. Abbiamo il posto dove appunto andare a pescare e il fuoco usato per cucinare. Piazziamo anche quello, lo mettiamo qua. Poi abbiamo la produzione, quindi il crafter di utensili. Il drying skin per far seccare le pelli e poi il workshop del sarto. In questo caso, vedete, noi possiamo andare a creare, mettendo più uno, la pelle che abbiamo. Qui cliccando invece abbiamo quello che i nostri vidici possono mangiare. L'uva, queste sono bacche, i piselli, carne e pesce, carne secca, pesce secco, carne cucinata e pesce cucinato. Un pane piatto, il miele e il formaggio. Calcolate che appunto il cibo qui viene visto come grezzo, secco e cucinato, come è tipico nella storia antica dell'uomo. In questo caso adesso si metteranno a produrre, hanno creato questo, possiamo andare a cucinare la carne tipo due ore. Ok, creiamo la carne cucinata. Vediamo se si mettono a farlo. Non possiamo ad esempio abbattere alberi, non possiamo minare queste rocce perché non possediamo ancora gli utensili adatti. Questa è una cosa molto interessante perché noi più facciamo cose, in questo caso stiamo raccogliendo pietra da questo piccolo giacimento qui perché qui potete settare la raccolta, l'abbattimento, l'abbattimento completo, la caccia o l'annullamento appunto o la decostruzione o la decostruzione di pavimenti. Abbiamo anche dei giacimenti diciamo di rame, ma la cosa interessante, vi domanderete, qua vabbè ci sono le stagioni, il numero di setter, i giorni e il cibo che possediamo. Dobbiamo assolutamente fare una lancia, assolutamente, anche due, perché dobbiamo andare a pescare, quindi poi andremo a piazzare anche il punto di pesca, quindi lo mettiamo magari qui e vedete che ok, andranno a pescare. Perché facciamo le cose? Perché c'è questo che è abbastanza immenso. Infatti qua vedete paleolitico, i tool di pietra, la possibilità di far seccare il cibo, la fornace, la slinger credo sia la fionda, il pesce e la trappola per i pesci, il tanning, quindi le pelli, la lavorazione delle pelli, il mining, poi c'è il mesolitico. Io tra l'altro ho avuto un maestro all'elementare che era appassionatissimo di questa storia, infatti abbiamo fatto tutta la storia dell'uomo, non mi ricordo molto perché ero piccolo, però qualcosina ho ancora. Il processo del grano, il vasaio, l'arcolaio, quindi la lavorazione dei tessuti, il forno per cucinare, la capanna di agilla, la capanna di pietra e così via. E vedete che poi più fatte cose, più accumulate punti esperienza e più sbloccate. Poi il neolitico con i ponti, l'agricoltura, la domesticamento degli animali, l'apicoltura, la difesa, il meno intrigante la storia dell'uomo. Queste credo siano bloccate, ma credo siano già implementate. L'irrigazione abbiamo, quindi i vasai e tutto. Questo non la conosco. Il charcoalitic, quindi credo sia una cosa un pochino più basata sulla lavorazione più intensa. L'età del bronzo, quindi il mulino a vento addirittura. L'età del ferro, lo smelting. Middle age, quindi il medioevo, le armi da fuoco e l'età industriale con i motori a carbone e la time machine alla fine. Cioè è veramente una figata fotonica perché potete vedere la vostra civiltà crescere. Ora, non so se hanno lavorato già la carne, però intanto possiamo andare a fare cose. Cibo ne abbiamo sempre tre. Questo ha sempre bisogno di aiuto perché non sta proprio benissimo, ma onestamente io non saprei nemmeno come aiutarlo perché non possediamo niente di che, però c'è già chi sta andando a pescare. Quindi il nostro amico qui sta pescando e poi lo metterò magari qui a cucinare del pesce infinito in modo che continua a produrne. Il pesce ce n'è qua, è un mare abbastanza ampio di cui anche vedete il numero di pesci. Due su due, quattro e qua il mare è aperto. Eh, insomma, spero si rigenerino i pesci se no siamo in baghe di tela. Comunque, blocchiamo gli stone tool tenendo premuto e quindi possiamo in teoria craftarli e infatti qua ci sono tutti. Io direi che facciamo la stone axe perché voglio vedere, e lo sto scoprendo insieme a voi dopo aver visto comunque i primi istanti di gioco, lo registriamo. Voglio vedere se dopo il crafting della dell'ascia possiamo abbattere gli alberelli. qua vedo come fare un plot, ma in realtà c'è un hook, una quercia. Vediamo se possiamo abbatterla. E infatti, infatti, questa è una cosa che io apprezzo tantissimo, che l'interfaccia di gioco si modifichi. Infatti vedete che qua c'è mine, ma non lo possiamo fare ancora, e chop. Chop io direi che potremmo anche fare questo, no? Eh sì. E quindi diamo via all'opera. Io direi che forse sarebbe meglio farne anche più di una e fare anche un bel piccone e anche una zappa. Questa dovrebbe essere low, infatti. Ormai Minecraft e i survival vari mi hanno temperato. Vediamo come abbattono gli alberi. Questo era 44 di vita, adesso è 32. No, 20 di vita. 20 sta morendo. Abbiamo anche il pannello religione con le tombe e con i menhir. Ma al momento purtroppo non abbiamo modo di curarlo. Possiamo piazzare una capanna qui, a due posti. Noi abbiamo 5 villici, ce ne serviranno almeno 3. Però, niente, prepariamo già la tomba al nostro amico, perché probabilmente a breve ne avrà bisogno. Qualche cosa è la limestone, ok? La limestone non ho mai capito che cos'è la pietra bianca. Comunque, andiamo avanti. Nessuno abbatte alberi, ancora? Vabbè, e tu? Ok. Ah, ok, sì, stanno lavorando. Ah, più 25. Uh, l'abbiamo salvato. L'abbiamo già scavato alla tomba, ma in realtà l'abbiamo salvato in extremis perché si sta curando l'omino qui. Quindi ogni ora più 25 di vita, più 25 di energia. Fantastico. Ce ne servono anche altre. Quindi io le metterei magari qui così. Così che adesso il legno riusciremo a produrlo abbastanza semplicemente. Il cibo ce l'abbiamo ancora, ma non lo produciamo. Dovremmo dare le priorità alla gente. Intanto possiamo vedere che lui c'è il parametro di sazietà, energia, vita e temperatura. E l'equipaggiamento che ha indosso. Qua possiamo produrre con le pelli della... una maglietta semplice o una maglietta calda. La maglietta calda è interessante perché... questo cos'è? Un auroch? Un bufalo? Credo. Ah, cucina al pesce. Ok, fantastico. Dovrebbe salire anche il cibo. No, perché arriverà l'inverno e l'inverno sarà devastante, calcolando che noi siamo con le balle al vento. Quindi dovremmo prepararci. Intanto la tomba lì aspetta, ma in realtà l'altro non ne avrà più bisogno, credo. Quindi abbiamo il nostro mini accampamentino. Dovremmo cacciare. In questo caso lo facciamo subito, sperando di non perdere la partita. Dovremmo mettere più gente a cacciare, però scappa. Non... Vediamo la vita? 36 su 60, quindi sì, ce la stiamo facendo. Perché almeno facciamo dei vestiti, dei vestiti comodi. Che è successo? New technology available. Eh, stiamo facendo un botto di esperienza. Intanto facciamo 5 magliette in modo da non girare nudi. Intanto vedete che c'è... Ok, l'ha ucciso e lo sta portando a casa. Questo cos'è? Un muflone. Il muflone fa la stessa fine dell'altro. Il big kick ping non mi metto neanche a farlo perché... Intanto qua dentro... Non c'è distinzione tra quello che ho visto tra uomo e donna. Al momento è tutto messo molto a caso. Però parliamo di una pre-alfa. Quindi il gioco sarà senz'altro da approfondire e da vedere una volta aggiornato, ma secondo me potrebbe essere un giocone. Secondo me lo è già, calcolando che non so dirvi quanto siano estese le... al momento in questa versione di gioco tutte le versioni di evoluzione. Però il pensare di arrivare a un medioevo non è assolutamente male. Comunque, adesso hanno prodotto le magliette? No. Perché non abbiamo le pelli. Dobbiamo conciare le pelli, è vero, è vero, è vero. Bisogna passare da quello stadio lì. Quindi infinito. Continuate a conciare le pelli. Grazie. Tra l'altro voglio eliminare tutta questa... ok, questa lavorazione qui. Cibo 4, infatti vedete che è salito. Voglio il minaggio di... il copre è un po' paresto di quello. Ok. E vedete che ha fatto il piccone e sta andando già a farlo. Lui sta raccogliendo il pesce, lo cucina. Bisognerebbe settare bene nelle priorità quello che dovrebbero fare. Sblocco il mining. Tra l'altro lo stone tool l'avevamo già sbloccato. Stone axe, stone pick. Perché il mining... ah ok, ce lo dà con questo e abbiamo la miniera usata per minare. Fantastico. Lo sblocchiamo. Lo sblocchiamo la miniera e quindi la miniera la piazziamo immediatamente. La possiamo mettere dove vogliamo no su questi giacimenti qui. Quindi io la metterei qui così che si vada a creare una fonte praticamente illimitata. Mentre qua vedete che è un deposito di 40. La miniera dovrebbe essere più grande. Vediamo. Intanto devono portare pietra e legno così creano la struttura. E adesso tutto dovrebbe un pochino diventare più semplice perché all'inizio potete raccogliere solo quello che trovate a terra. Quindi non avete tulla. Quindi il legno lo trovate per terra. La pietra la trovate dei sassi come questi giacimenti qui che è un deposito di venti. L'abbiamo raccolto un pochino. Non mi ricordo più da dove però l'avremmo raccolto. Non tantissimo. E vedete adesso Giulia ha già scavato uno. Ok la miniera è praticamente pronta. Possiamo metterlo a produrre. Quindi illimitato. Smetti subito di fare questo perché qua la miniera è quello che devi fare. Quindi la miniera è praticamente un processo illimitato però un po' più lungo. Molto molto interessante. Adesso stiamo accumulando sempre esperienza. Il cibo non si è messi male. Non so perché io... Ah forse sì Stus e Defni. Ok dal nome e dai capelli si identifica. Sono tre donne due uomini. Ok. Giorno due. Intanto possiamo accelerare un pochino il tempo. Vedete lì intanto cucina. Uno cucina uno fa lì. Le pelli non le mettono a lavorare perché? Vediamo un attimo nello stockpile cosa c'è. Ah non abbiamo pelli. Non abbiamo pelli. Mannaggia. Non abbiamo pelli. Quindi dobbiamo creare forse... Vediamo. Tanning. Eh sì. Eh sì. Perché noi abbiamo ucciso il... Il nuflone. Abbiamo corpi di animali. Ma non abbiamo modo di togliere la pelle. E quindi il tanning dovremmo metterlo... Ah butchertable. Eh sì. Dovremmo mettere tutti a macellare. Ottenendo le pelli. Infatti vedete in questo caso lo dobbiamo fare. E vediamo un attimo se riesco a cambiare le priorità. Crafting. Perché non c'è tanning. Eh... Ok. Metto Gizel a fare quel lavoro lì. Che tra l'altro sta già facendo... No Daphne no. Sta facendo questo. Gizel dov'è? Eh qua. Non sto facendo assolutamente niente. Eh... Dovremmo macellare... No era in pausa. Scusate. Ok. No adesso si mettono a macellare e ottenere gli... Le pelli e le carni. A quel punto le metteranno a seccare qua sullo stand. Il skin drying rack. Vedete adesso è arrivata notte. Sta finendo il secondo giorno. Infatti le mettono lì a seccare. Il progresso è di 300. Una volta fatto questo diventerà disponibile la pelle. La metteranno... La lavoreranno. Creeranno le cinque maglie. E poi andremo avanti. Insomma faremo poi i vestiti caldi per l'inverno. Molto bello anche l'effetto di luce del... Poi nemici. Ovviamente la domanda può essere legittima. L'emici io non credo che in questa epoca magari qualcun altro come noi ma è un gioco basato sulla sopravvivenza. Quindi non credo al momento ci sia qualcosa di questo tipo. Vediamo un attimo che cosa si ottiene andando. Windmill è un mulino così. Lo smelting del bronzo. Guardate quanto diventa completa. È il rompitore meccanico. Iron smelting. Quindi si possono fare varie cose. Shiny mail. La cotta di maglia. Le armi da fuoco. Guardate quante cose dobbiamo sbloccare per arrivare le armi da fuoco. Il cubo di distillazione. La polvere da sparo. Lo zolfo. La balesta. Abbiamo lo steam engine. Quindi il motore a vapore. E poi la time machine che è questa che ci riporterà alla nostra epoca. L'inizio è molto semplice. Cliccate. Mettete la dimensione del mondo 128 256. Io ho messo 128 quindi questa è la mappa più piccola. Pensate potete farla anche il doppio. Il doppio. Quattro volte questa. E poi qua vabbè per dire non ha senso fare un ponte che potremmo fare successivamente perché non c'è. Però vediamo un attimo anche le strade. Ci fanno viaggiare il quanto? 95% più velocemente. Quindi potrebbe essere interessante. Dato che c'è gente che va a minare. Noi costruiamo la strada. La facciamo arrivare qua al villaggio. E poi facciamo magari questo. Adesso voglio vedere che cosa chiede. Niente. Semplicemente spianano la strada. Guardate come si mettono tutti a lavorare incessantemente. Le pelli stanno andando avanti. Quasi finito. Poi inizieremo il crafting del primo. Le altre pelli le hanno messe invece nella stockpile. Vediamo. Chop completely. Lo stiamo già facendo. Il mining lo stiamo facendo. Vorrei vedere le risorse ma quello mi sa che non c'è un tasto dedicato. Poi avremo le case. Insomma avremo le varie cose. Bellissimo. E cavoli si muovono molto più velocemente. Sperando che seguano la strada perché sennò è inutile se non seguono la strada per andare in miniera. Non ha senso. Però è carino perché comunque qua sono sono le basi del nostro futuro villaggio. La pelle è pronta. Ora la inizieranno a lavorare. Come ultima cosa voglio vedere se riescono a fare un vestito. una pelle ne serve per il vestito pesante invece di due. Ok inizia a lavorarlo. Gizel. Che avevamo messo come priorità Gizel di crafting. Quindi ottimo. Voglio capire come fa ad asseniarla poi la pelle. Quindi il vestito. Ok. Ecco. Si è messa subito Gizel. Se è una donna. Se un uomo si è messo. Il vestito. Quindi al momento è il primo vestito del villaggio. Ovviamente si potrebbe continuare. Adesso hanno messo. Potrei mettere più rack per seccare le pelli. così che lo facciamo semplicemente. Più più velocemente. Abbiamo un'altra possibilità di fare la fishtrap. No. Il tanning. Il tanning cosa fa? Lo vediamo subito. Non riesco più a smettere di giocare. Il tanning è qui. Non piazziamo qua. Questa è la zona diciamo dove dobbiamo abbattere un po' gli alberi e fare un po' di spazio. Serve l'agilla ma l'agilla non ce l'abbiamo. Quindi niente. L'agilla devo studiare un attimino come fare perché vediamo un po'. Abbiamo magari la possibilità di fare un badile? No. La zappa l'abbiamo fatta. Però i campi non li abbiamo ancora. L'agilla sarà da capire come fare a farla perché c'è la colkin. No. Qua produce il carbone. Potrei. Non so. Eh vabbè. Al momento. Al momento no. Vabbè. li mandiamo a far seccare le pelli. Se potete dobbiamo settarle ognuno su infinito in modo da dirgli e farlo per sempre. Così tienili sempre preoccupati. Almeno. Ok. Infatti vedete che le stanno andando a mettere subito. Oh abbiamo una pelle nuova e ci può fare il leather outfit. Fatelo. Perché no? Ah però aspetta. Low skin. Dry skin. Abbiamo delle leather che poi non capisco cosa siano perché sono pelli ma non da far seccare. Non lo so. Tra l'altro io ho fatto anche nelle elementari sempre con questo maestro. Abbiamo fatto il carro di carnevale ambientato appunto sui popoli di questa epoca qui e avevamo proprio le pelli. C'era proprio una figata. Quindi lo sento un po' mio questo gioco. Allora questo ragazzi era Paleon. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io lo trovo molto molto intrigante. Ora attendo il vostro parere qua sotto nei commenti. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.